Lo studio odontoiatico San Pietro è uno degli studi associati al network MyDoc e il dentista dei bambini. Per me è un onore perché significa far parte di un gruppo di studi dentistici con colleghi altamente specializzati nella cura del piccolo paziente, dove la priorità è quella di far vivere l'esperienza del dentista come un'esperienza piacevole e positiva. Per entrare a far parte di questo network è necessario seguire protocolli clinici specifici ed avere un'adeguata strumentazione medica. La sedazione cosciente con ossigeno e protossito consiste in un dispositivo che utilizza una mascherina attraverso la quale il bambino respira questa miscela di gas per tutta la durata della seduta. Questa tecnica consente di lavorare in maniera sicura e affidabile. Il bambino rimane cosciente, collaborante, tranquillo e non ha paura. Inoltre si raggiunge il livello di sedazione velocemente così come velocemente svanisce una volta finita la seduta operativa. È fondamentale seguire i bambini fin da piccolissimi. Già dai 3 ai 6 anni si possono programmare dei controlli del dentista in modo da intercettare, intervenire precocemente su anomalie dei macellari e dei denti e sviluppare un rapporto positivo con il dentista. Uno studio dentistico associato al dentista dei bambini è uno studio con una stella Michelin nel campo della pedodonzia. Ma lo studio non tratta solo il piccolo paziente e anche adulti.